Il coronavirus è certamente un dramma, una sventura incalcolabile, ma lo è di più se si considera chi governa il paese Italia, una banda di incapaci, di improvvisatori, di presuntuosi. Mi riferisco al Premier Conte e ai suoi ministri, ai suoi leccapiedi. C'è da dire che per quanto riguarda le varie emergenze che si stavano verificando, il governo a un certo punto non ha saputo più come muoversi e ha cercato così di agire, di muoversi a tentoni, a tappare le falle senza una programmazione adeguata. Ha cercato di mettere le pezze ad una situazione che ormai si era tanto incancrenita ed era ed è ormai fuori controllo. E quindi tutta una serie di provvedimenti estemporanei dettati appunto dagli eventi travolgenti, dai picchi di contagio impressionanti. Allora cosa si è fatto? Non si è fatta un'azione di programmazione, già preventivamente andavano chiuse certe regioni, certe aree, mi riferisco alla Lombardia, al Veneto. No, quando il picco esplode e allora cosa si fa? Si decide di bloccare il transito in entrata e in uscita dalla Lombardia, dal Veneto, dalle 14 province. Ovviamente siccome con Conte alla comunicazione c'è un altro incapace, un uomo ridicolo, e già definirlo uomo è tanto, perché gli uomini ragionano, pensano a differenza delle bestie, mi riferisco a Rocco Casalino del Grande Fratello, il quale proprio per la sua incapacità sta di fatto che riesce così a scappare, diciamo così, una bozza, un'anteprima di quello che sarà il decreto di chiusura per Lombardia e Veneto e ovviamente questa notizia filtrata fa sì che produce lo scatenarsi ovviamente dei meridionali che ovviamente presi dal panico lasciano i territori settentrionali e scendono al sud. Non si sa se appunto colpiti o meno dal coronavirus, positivi o meno, sta di fatto che inizia questo fuggi-fuggi incredibile, perché ovviamente c'è un incapace come Rocco Casalino il quale non sa gestire la comunicazione dal tono di che parliamo, di un carnevale, passatemi l'espressione, del Grande Fratello, di questo stiamo parlando, e che percepisce un'indenità superiore a Conte. Quindi già questa prima fugga e quindi ovviamente questo contagio che dal nord arriva in maniera massiva al sud. E poi dopo alcuni giorni ancora il picco sale alle stelle e Conte cosa fa? Decide di ridurre appunto l'attività proprio oraria di alcune attività commerciali, dei bar e dei ristoranti fino alle ore 18. Questo è il secondo provvedimento. Poi ancora vede che il fenomeno non riesce a frenarsi e va oltre e si decide appunto per la chiusura di molte attività commerciali. Allora qui bisogna dire alcune cose. In un momento come questo tutte le attività o quasi tutte le attività commerciali andavano chiuse. Eccezione fatta proprio per quelle necessarissime, indispensabili, mi riferisco alle farmacie, mi riferisco ai generi alimentari, ma così non è stato e non è. Perché basti vedere tutte le eccezioni, e ce le ho qui appuntate, appunto il commercio al dettaglio e sono esenti varie categorie merceologiche tra cui, mi viene da sorridere, pensate un po', commercio al dettaglio di piccoli animali domestici. Quindi praticamente i bar sono chiusi, i ristoranti sono chiusi, però io posso andare al negozio che vende animali e comprarmi un canarino, un uccellino, un gattino, un cagnolino. Pensate un po' quanto è stupido Conte. Poi si può anche andare avanti, ma pensate un po', ristoranti e bar chiusi e va bene, e addirittura le attività che contemplano come loro esercizio il gioco dell'otto, dell'enalotto, del superenalotto, lotto e superenalotto, nonché la vendita di gratta e vinci, queste attività sono consentite. Allora noi abbiamo detto che le attività essenziali dovevano essere salvaguardate, ma essenziali sono le attività di vendita di farmaci, essenziali sono le attività di vendita di generi alimentari, non certo giocare all'otto o al superenalotto, non certo acquistare il canarino. E poi, altra contraddizione, mi si chiudono le attività dei parrucchieri, ed è giusto perché chiaramente c'è un contatto fisico e quindi la possibilità che il virus possa trasmettersi, e poi però è consentita la vendita all'ingrosso dei materiali che i parrucchieri usano. Quindi questo può creare a un certo momento un boom del lavoro nero. Visto che i parrucchieri sono chiusi, allora gli abusivi potrebbero fare man bassa di questi prodotti. E allora scusate, se i parrucchieri sono chiusi, perché fate vendere all'ingrosso i prodotti che usano i parrucchieri? Così come l'altra assurdità, l'altra bestialità, l'altra follia, ma questa forse è la cosa più importante di tutte, non ci sono mascherine. Allora tu, Stato italiano, stai dicendo giustamente agli anziani di non uscire, ai giovani di stare il più possibile in casa, e non li doti di mascherine, non fai sì che le mascherine siano reperibili, non fai sì che la persona possa acquistarle, perché non si trovano da nessuna parte. E quelle poche che si trovano, si trovano a prezzi altissimi. Ovviamente siamo proprio a cifre, a tassi quasi di usura, visto il costo che hanno. Ma è molto grave, è una responsabilità enorme, criminale dello Stato italiano, non dotare i cittadini di mascherine, mascherine che i cittadini vorrebbero acquistare. E non ci sono. Cioè si dice al cittadino stai in casa, chiuditi in casa, ed è giusto farlo in una situazione di pandemia, però quando gli dici che devi usare le mascherine, e poi non gli dai le mascherine. E non si trovano le mascherine. Questo è l'assurdo. O ancora non intervieni per frenare, per bloccare dei prezzi assurdi, appunto, delle mascherine. E qui siamo, altro che bagarinaggio, qui stiamo a livello proprio di sfruttamento, di usura vera e propria. Assurdo. Uno Stato italiano, che evidentemente è uno Stato incivile, non per i cittadini, ma per le capre, per le bestie che lo governano, non è in grado di assicurare le mascherine. Il primo strumento per, ovviamente, limitare il proliferare, il veicolare del virus. Questo è il governo di Giuseppe Conte e dei suoi leccapiedi. Ripeto, le disgrazie non vengono mai da sole. E oltre la sciagura del coronavirus, l'Italia paga le colpe e le responsabilità scelerate di un governo incapace, targato Giuseppe Conte. Grazie.